Dai mari freddi e puliti, un cibo sano e nutriente, il merluzzo. E coi filetti di merluzzo Findus, che piatti sai cucinare? Eh sì, basta un po' di vino bianco, il pomodoro, anche un po' di pepe, ah, qualche oliva e il prezzemolo per finire. Ecco pronto un piatto appetitoso. A tavola! E con tutto il sapore del mare, filetti di merluzzo Findus, la buona carne di mare.